weee non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE DAIE can you hear me screaming weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono XIUDER e ragazzi siete pronti guardate che questa mattina fra poche ore un paio di ore ci sarà l'update 10.10 noi inizieremo la live alle 8 e come sempre dato che ci sarà un downtime dei server vedremo insieme in anteprima mondiale tutti i leaks quindi vi aspetto davvero numerosissimi a goderci tutto quello che verrà inserito e parliamo ragazzi ad esempio della nuova corso commercio o della vecchia corso commercio non si sa sappiamo però ragazzi che ci sono delle modifiche importanti in questa patch ne parleremo appunto in questo video parleremo però anche di una curiosità molto interessante per quanto riguarda il rift nel cielo è vero ragazzi che in questa season stiamo piano piano rivivendo il meglio delle season precedenti e questo rift nel cielo sembra non essere messo lì a caso ma parleremo anche della fortnite app vi ricordate il video di ieri mattina dove vi ho detto sloggate perché c'è il rischio ban dell'app non ufficiale beh ragazzi oggi stranamente sentiremo e vedremo delle cose sulla prima app ufficiale di fortnite prima però volevo ringraziare tutti quelli che mi supportano con il codice creator xuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la domandina raga ieri non sono riuscito a mettere a tutti i coricini nei commenti perché abbiamo fatto anche delle modifiche agli alert di twitch ma ragazzi domanda di oggi molto interessante ma te vorresti che tilted town rimanesse così o che nel corso di questa season cambiasse ragazzi io apprezzo tantissimo il fatto che esista una porzione di game nel battle royale diversa quindi un po più simile a fps come è la maggior parte degli fps quindi dove non si può costruire come su fortnite io vorrei che rimanesse così magari si aggiornasse la city ma mi piacerebbe che il metodo di gioco non si modificasse fatemi sapere quello che vorreste voi qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere finalmente il tweet ufficiale di fortnite patch 10.10 is almost here e tra l'altro downtime begins tomorrow quindi vuol dire che verranno inserite nuove skin nuovi picconi nuovi deltaplani nuove coperture ma soprattutto dato che non è inserita ancora in game ciò che sostituirà grandi magazzini abbiamo anche ovviamente in game la nostra notifica il periodo di interruzione inizierà alle 8 gmt quindi dovrebbe essere alle 9 del mattino noi iniziamo la live come al solito alle 8 ovviamente ci facciamo un po di arena e poi aspettiamo magari non rimangono neanche giù tantissimo i server ma perché non approfittarne per vedere insieme tutti i leaks e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ovviamente quello che sta succedendo ai grandi magazzini lo avrete sicuramente visto per chi fosse ancora rinchiuso nel suo igloo voglio fargli vedere che molto semplicemente il rift beacon ragazzi è super attivo oramai sta sprigionando questa scia questa corrente di energia e la sta nello stesso tempo recuperando dal pad collegato lo abbiamo già visto per la modifica di tilted town ovviamente lo vedremo anche adesso c'è da dire che è vero che tilted town tilted è abbastanza grande ma tutta l'area che copre i grandi magazzini è veramente enorme quindi la domanda è che cosa sostituirà i grandi magazzini corso commercio oppure si tornerà alla stessa epoca di tilted non lo so lo scopriremo sicuramente tra pochissime ore e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento il rift nel cielo è davvero interessantissimo quello che stiamo per vedere ragazzi perché innanzitutto come sapete nel cielo c'è questo rift che giorno dopo giorno si ingrandisce ma la cosa particolare è che l'immagine che vi sto facendo vedere in questo momento è relativa al rift del 15 luglio 2018 quindi parliamo della season 5 dove per la prima volta apparve nel cielo e se andiamo a dare un'occhiata ragazzi a quest'altra immagine che prende in poche parole la mappa vista dall'alto si può notare come il rift si combaci perfettamente con altri punti della mappa che in questo momento sono stati toccati o che verranno toccati ad esempio abbiamo visto come c'è la nostra pinnacoli che è quella che è stata modificata per prima ma si vede anche benissimo come ci sia il rift ai grandi magazzini quindi ragazzi prossima fermata ai grandi magazzini e molto probabilmente un nuovo punto che potrebbe essere toccato e anche borgo bislacco che come sapete avevo già spoilerato potesse subire dei cambiamenti molto probabilmente trasformandosi come si era detto in un piccolo lago staremo ovviamente a vedere nel corso della season e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento parliamo dell'app di fortnite che diamine è successo per chi non avesse seguito il video di ieri ragazzi è successo un mezzo casino cioè c'era un'app che si chiama pocket manager si può scaricare su tutti i dispositivi android ed è un'app che vi ho fatto vedere degli ispezioni di di utilizzo si può associare al vostro account e con quest'app si possono fare anche acquisti in game quindi con i vbucks per prendere roba dallo shop penso che sia stata studiata qualora non foste al computer e voleste comprare un oggetto si poteva fare si potevano aggiungere gli amici si poteva cambiare l'outfit del personaggio prima del game il problema è che non era un'app ufficiale e da lì fortnite è partita violentemente con una causa legale verso il creatore dell'app cosa è successo? fortnite ha detto una roba molto semplice senti creatore dell'app grazie per averci fatto il favore di avere praticamente azzerato i tempi di produzione di una creazione per un'app su mobile ufficiale che possa far interfacciare il giocatore al proprio profilo adesso non vuoi che ti roviniamo la casa ci dai tutto ci cedi tutti i diritti della tua app e noi non ti facciamo causa ovviamente se epi games ti fa una denuncia del genere saresti un pazzo fulminato a dirgli di no quindi applicazione passata direttamente a epi games cambieranno il nome faranno delle cose ma abbiamo dei file audio e che vengono appunto direttamente dall'app ve li voglio far sentire Non li sentiamo un secondo perché ho l'audio disattivato di là Sono molto molto carini anche perché ovviamente avete sentito che sono file audio molto simili a quelli che abbiamo già in game e sono dei file audio che riguarderanno appunto l'accettare gli amici a entrare in una chat party perché probabilmente ci sarà anche una chat interna in quest'app messaggi ricevuti insomma ragazzi tante cose carine che permetteranno di essere sempre connessi con il vostro profilo di fortnite anche da un dispositivo mobile E chiudiamo ragazzi molto rapidamente il video di oggi ricordandovi anche alcune delle modifiche che verranno inserite se abbiamo già alcuni aggiornamenti della patch 10.10 per quanto riguarda il battle royale modificheranno il tasso di respawn del brutto in poche parole verrà nerfato tra virgolette semplicemente diminuendone appunto lo spawn rate modificheranno anche dei problemi relativi al menu delle challenge dove in realtà alcune si vedono a 0% anche se le avete completate insomma roba di poco conto sistemeranno anche probabilmente il bug quello che vi fa vedere che siete in arena anche se in realtà siete in partita normale e un sacco di altre cose che comunque vi ricordo scopriremo domani anzi scopriremo oggi fra pochissimo insieme in live io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo fra poco alle 8 in live ciao ciao